C'è grande emozione, fervono gli ultimi ormai preparativi qui in Ateneo per l'arrivo appunto per la quinta volta, lasciatemelo dire, del nostro presidente Sergio Mattarella, perché lui ha raggiunto la nostra città nel 2016 per un evento al Geox, si è tenuto al Geox con i medici per l'Africa QAM, successivamente nel 2018 per sempre l'inaugurazione dell'anno accademico proprio qui in Università Padova, nel 2020 per la nomina a capitale del volontariato appunto per Padova e non possiamo dimenticare anche la sua presenza nella città simbolo per la lotta alla Covid e quindi sto parlando di Vo Euganeo. Un dispiegamento di forze domani veramente importante, oltre 200 uomini messi a disposizione da tutte le forze d'ordine locali, quindi sto parlando dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di Stato e naturalmente non può mancare anche la polizia locale, quindi quella messa a disposizione da parte dell'amministrazione del comune di Padova. Questa sera alle 17.40 si terrà in prefettura l'ultimo tavolo tecnico proprio per gli ultimi dettagli, sappiate che naturalmente il percorso che domani mattina il cerimoniale e naturalmente la macchina del Presidente percorrà è segreto, è mantenuto naturalmente nascosto, potete ben capire, per motivi di sicurezza. Velocemente, e dopo introduco il nostro graditissimo ospite, vi ricordo le autorità e gli ospiti che saranno presenti qui in Ateneo proprio domani, quindi oltre alla Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci sarà anche il Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola, il Ministro dell'Università e della Ricerca Maria Cristina Messa, la Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, quindi la seconda carica più importante per lo Stato italiano, la Presidente del Consiglio degli studenti Emma Ruzzone e a fare gli onori naturalmente di casa, sto parlando dell'Ateneo Patavino, sarà naturalmente la rettrice Daniela Mapelli. Qui accanto a me ho il professor Massimiliano Zattin che è il prorettore al dottorato e al post-laura dell'Università di Padova che ci spiegherà insomma quello che avverrà all'interno appunto e non solo perché so che ci sarà un cerimoniale che riguarda un po' anche le mura esterne dell'Università di Padova, un abbraccio simbolico appunto alla città di Padova, una grande festa dicevo per l'Ateneo ma per tutta la città. Esatto, infatti la cerimonia non partirà da qui ma partirà bensì dal Palazzo della Ragione così come è successo cento anni fa per il Settecentenario, quindi di nuovo a consolidare il legame della città con la nostra Università, Università che è importante per la città dal punto di vista sociale, economico eccetera, quindi è veramente una grossa opportunità, un evento importante sia per l'Università che per la città. Io vorrei un attimo far notare che effettivamente guardiamo anche con la nostra telecamera sono proprio gli ultimi istanti di questa grande festa, come potete vedere ci sono i tavoli in allestimento, domani ci sarà veramente lo sfarzo ma naturalmente è appunto per celebrare gli 800 anni di questo Ateneo che è importantissimo non solo per Padova ma naturalmente è un faro accademico per tutta Europa. Guardate ci sono naturalmente anche i gonfaloni, gli striscioni che ricordano appunto gli 800 anni. Stava dicendo prorettore, scusi se lo interrompo. Niente, allora si partirà dal Palazzo della Ragione, ci sarà quindi questo corteo che sarà aperto dalla rettrice con il gonfalone dell'Università. Dietro la rettrice una cinquantina di rettori delle altre università italiane in ordine di vecchiaia dell'Università, quindi dalla più antica alla più recente. Seguiranno poi i prorettori delegati, quindi il corteo salirà, uscirà dal Palazzo della Ragione e entrerà dal cortile antico per salire la scala e per arrivare... La famosa scala di Gioponti, giusto? No, saliremo probabilmente dalla scala che vede alla base la statua di Elena Cornaro. Quindi entreremo... Di solito però si accedeva da lì, quindi è un cambio diciamo. Sì, perché vogliamo entrare dalla sala dei 40, dove abbiamo la cateta di Galileo. Il pubblico sarà già in sala e verso le 11 più o meno è stimato l'arrivo del Presidente della Repubblica. Quindi saremo tutti in grande attesa. Per le 11, questo sarà l'orario del Presidente Mattarella, ma per la città naturalmente e per voi la sveglia è anticipata intorno alle 9. 9... Esatto, esatto. Il corteo partirà alle 9.45. Perfetto. Lei ha parlato di una sala come se fosse una sala qualsiasi, ma è la fantastica Aula Magna dell'Ateneo Patavino e noi l'abbiamo neanche a farlo apposta proprio qui alle nostre spalle. Che dice, Prorettore, possiamo dare in diretta una sbirciatina con la nostra telecamera? Perché dico una sbirciatina? Perché naturalmente il cerimoniale sta naturalmente bonificando tutta l'area, stanno controllando anche tutto quello che è il discorso di sicurezza. Quindi ci avviciniamo veramente in punta di piedi e cerchiamo di farvi vedere quello che sta accadendo. Ci sono anche, come potete vedere, la strumentazione dell'Università di Padova perché tutto verrà registrato e messo anche a disposizione, dicevamo, dei padovani che potranno seguire, appunto, so che ci sarà un maxischermo, giusto? Sarà appunto installato un maxischermo in Piazza Cavour così da far seguire a tutti le cerimoniali. Oltre i canali YouTube, i canali social dell'Università che saranno tutti in diretta. Possiamo ricordarli, Prorettore, insomma, così vi seguiranno? Abbiamo il canale YouTube e il sito Facebook, il canale Facebook in cui sarà appunto tutto in diretta. Ecco, lì potete vedere il famoso leggio, insomma, dove si posizionerà appunto la nostra rettrice Daniela Mapelli proprio per pronunciare il benvenuto e naturalmente il famoso discorso. Noi abbiamo avuto la fortuna di intervistarla qualche giorno fa, insomma, era molto emozionata e mi diceva che passava le notti, insomma, insonni per completare il famoso discorso. Ma è tutto pronto, vero, Prorettore? Noi torniamo nella nostra posizione iniziale. Sì, siamo assolutamente pronti. Ci stiamo lavorando da diversi mesi, devo dire, a questo evento e a tutti gli eventi che seguiranno questa inaugurazione perché non finisce qui, non finisce qui. Tanto è vero che questa settimana abbiamo ben tre premi Nobel che parleranno da domani fino a venerdì. Quindi è un'occasione veramente per far vivere la cultura e la scienza all'università ma anche alla città. Prorettore, senta, io mi sono permesso di, insomma, con qualche parola cercare di far capire a chi ci sta ascoltando che sarà effettivamente un evento importantissimo. Perché è così importante? Perché è così essenziale che ci siano questi nomi, ad esempio, per celebrare il nostro Ateneo? Beh, io credo che l'importanza della cultura e della scienza sia veramente fondamentale ribadire soprattutto in questi momenti un po' difficili della nostra storia. Voi sapete il motto dell'Università di Padova che dice libertà di scienza per tutti. Qui a Padova si fa scienza e siamo liberi di fare scienza. Questo secondo me è qualcosa di molto importante perché la società è un di più che noi diamo e portiamo alla società. Il simbolo e il significato, cioè il nome, scusate, che si porta alle spalle questo Ateneo sicuramente è libertà a cui viene associato. Ricordiamo appunto che furono dei giuristi a fondare, dei giuristi bolognesi. Si è tenuto, se non sbaglio, anche nel weekend proprio un incontro per parlare di libertà e di diritti che in questo periodo, in questo contesto storico, sono veramente importanti da ricordare. Sì, assolutamente. Poi la Lectio Magistralis che come tradizione viene tenuta da un nostro docente parlerà appunto di libertà anche quest'anno. Ed è bello vedere che ci sono studenti. Prego, ci sono studenti che raggiungono appunto l'Ateneo in visita per appunto parlare proprio di queste tematiche. Ti chiedo velocemente di inquadrare questi ragazzi perché loro saranno il nostro futuro. Spero di sì. Spero si iscrivano qua. In ogni caso è bene che i ragazzi, i giovani vedono dove si fa scienza, dove si fa cultura. Da dove venite? Posso chiedervi? Belgio. Dal Belgio. Gli studenti vengono dal Belgio. Proviamo un secondo. Loro sono qui in visita appunto per scoprire le bellezze appunto di Padova ma soprattutto dell'Ateneo, giusto? Certamente. Allora sono qui in visita, sono ben 103 studenti a visitare il nostro Bo. Può chiedere velocemente l'emozione insomma nel vedere una struttura, un'Ateneo, una scuola diciamo così stupenda, così bella e che domani avrà anche l'onore di avere il Presidente della Repubblica qua? E' 12 anni che loro vengono a visitare l'Ateneo e per loro è sempre una grandissima emozione. Esatto, con me cambiano e sono sempre molto emozionati. Bene, io raggiungo, vi chiedo solo un secondo, il prorettore naturalmente Massimiliano Zattina ringraziandolo per questo bellissimo collegamento e se non ci sono domande a voi studio. E ringrazio anche i nostri ragazzi che sono venuti fino a Padova dal Belgio. Hi guys!